buonasera a tutti e ben ritrovati per la nuova puntata di viaggiando con gloria questa sera non vi anticipo niente vi dico solo che ieri sono andata nello studio atelier di un pittore che si chiama maurizio fini a registrare un messaggio e un video per voi per potervi introdurre al viaggio che faremo oggi a tra poco ecco piove la stagione delle piogge tutta la mia vita un susseguirsi di stagione delle piogge in messico quando arriva sbocciano fiori ovunque fiori di una bellezza selvaggia e prepotente un'esplosione di vita la pioggia è vita la pioggia fa risuscitare semi che sono morti e sepolti e allora viva la vita ho cominciato a dipingere straiata a letto sarei dovuta rimanere paralizzata dicevano i medici invece mi sono rialzata e un giorno sono andata da lui con i tre miei quadri se avesse saputo se avesse immaginato che ero io quella che da ragazzina gli giocava brutti scherzi mentre amoreggiava con qualche modella in una pausa dei suoi tenni murales quella che da dietro una colonna strillava diego attento arriva tua moglie lupe anche quel giorno stava dipingendo i murales del ministero della pubblica istruzione era in cima a un'impalcatura l'ho chiamato lui ha guardato giù ragazza ventenne dal corpo nervoso e so cosa lo ha tratto fin dall'inizio le mie sopracciglia che ha sempre definito ali di gabbiano nero è sceso giù incredibilmente agile per quel corpacione pesante e mi ha scrutata con quel suo meraviglioso faccione da rospo solo io so quanto sia bello diego solo io è come un cactus messicano forte e possente cresciuto nella sabbia e nella pietra vulcanica irto di spine per gli estranei e con un cuore di dolce tenerezza che solo a me svela mi si è piazzato davanti il doppio in altezza eppure in età e pesante il triplo mi ha scrutata a lungo uno sguardo penetrante come se si perdesse nel nero dei miei occhi e cercasse un barlume nell'abisso che mi porto dentro ma io sono stata sbrigativa ero troppo imbarazzata e gli ho detto non sono venuta qui perché ho tempo da perdere ne voglio far perdere tempo a te devo lavorare per mantenermi ho dipinto qualche quadro e vorrei che lo guardassi da professionista ti chiedo un giudizio sincero perché non vado in cerca di complimenti non dipingo per vanità da te vorrei sapere se ho un briciolo di talento per continuare o se farei meglio a cercarmi un altro lavoro e chiuso l'ho spiazzato ha guardato i quadri tre autoritratti schietati sensibili sensuali forse o almeno a lui lo sono sembrati perché ha provato a lanciarsi in una serie di lodi ma l'ho subito interrotto niente complimenti voglio critiche serie ho sentito tanti complimenti di persone che si sforzavano di essere gentili ma si vedeva chiaramente che erano soltanto imbarazzati perché davanti ai miei quadri molto più facile restare sconvolti che affascinati lui ha voluto vedere il resto dei miei dipinti e di me la domenica successiva è venuto a casa mia che è londres 126 a cui qui nella casa sul e poi è tornato altre volte ci siamo baciati mi sono innamorata di diego con una tale forza una sorta di totale abbandono che solo allora compreso cosa fosse l'amore per i miei è stato un dramma mio padre taceva preoccupato ma per mia madre fervente cattolica e così legata alle tradizioni diego era un comunista un senza dio un divorziato che beveva troppo e aveva per giunta fama di passare da un letto all'altro le donne con cui era stato non si contavano più ed è così brutto così grasso strillava e neppure le importava che fosse l'artista più famoso del messico che con noi avrei potuto vivere agiattamente specie considerando che dopo l'incidente per pagare le cure le operazioni ci eravamo ridotti in miseria niente lei non sentiva ragione povera mamma non capiva che ormai nulla avrebbe più potuto fermarmi sono andata in municipio ho fissato la data 21 agosto 1929 quei giorni sono fatta prestare dalla nostra domestica la gonna lunga la blusa e lo sciallo ho messo l'apparecchio al piede per poter stare in piedi il tempo necessario e l'ho sposato l'elefante la colomba hanno scritto i giornali a parte qualche cronista tirato dall'evento che riguardava il grande diego rivera anzi il discusso diego rivera come veniva definito su quelle gazzette per ignoranti con noi c'era soltanto mio padre che ha tirato diego in disparte per dirgli mia figlia è malata e lo sarà tutta la vita se vuoi sei ancora in tempo a ripensarci ma se sei proprio deciso a sposarla allora avete il mio consenso il consenso tanto ci saremmo sposati comunque alla fine mia padre gli ha detto a basta voce con il tono di chi sta facendo una rivelazione e va bene diego è giunto il momento di avvisarti frida una ragazza intelligente incantevole ma si porta dentro un demone un demone nascosto lo so ha risposto diego lo so mi sono illusa che la vita mi avrebbe concesso una tregua non è durata granché di notte la morte danza intorno al mio letto l'ho scritta nei lunghi mesi che ho passato e immobilizzata poi ho ripreso a camminare mi sono innamorata ci siamo sposati ma la pelona non ha mai smesso di danzarmi intorno eppure era tutto così intenso così coinvolgente ci portavamo dentro un mondo nuovo un nuovo concetto di società un modo diverso di concepire la politica l'arte era politica i muralisti rifiutavano il concetto di opera da relegare nelle collezioni private o nei musei affrescavano muri di palazzi pubblici perché tutti potessero fruirmi io io non lo so io dipingo me stessa il mio dolore il mio lottare e sconfiggere la pelona ogni giorno ogni ora ogni stanza viva la vita buonasera di nuovo ben ritrovati e avete capito che questa sera andiamo in messico ho scelto una lettura dal libro di cacucci viva la vita perché per me il messico è stata tanta vita l'ho visitato spesse volte per lavoro sono stata nelle spiagge meravigliose di cancun nello yucat hanno visto i senote le tiramidi maia ho visto cose meravigliose però ho deciso di parlarvi di un viaggio in particolare questo libro monologo che ripercorre la vita di fritta calo quindi è lei prima persona che parla delle vicende principali della sua vita io mi sono innamorata di questa pittrice anche attraverso e grazie questo libro per cui ho deciso di portarvi con me in viaggio e ripercorrere queste tappe di questo viaggio che mi hanno portato mi ha portato proprio a cuernavarca ea città del messico a dire vero è stato il film frida di julie talmor praticamente con una salma a ayek meravigliosa veramente autenticamente brava e autenticamente messicana che è riuscita a riproporre una frida calo meravigliosa ed è stato proprio quel film che mi ha fatto avvicinare sia alla pittrice che poi a questa straordinaria vita che hanno da raccontare sia lei che il marito diego rivera i più grandi pittori del messico a cuernavaca che a 80 chilometri da città del messico era andata a trovare veronica una ragazza un'amica che ha abitato per tanti anni in messico quindi ho approfittato di questa amicizia per andare da lei e ovviamente insieme a me l'ho portata per tutta la diciamo per tutte le destinazioni principali dove si potesse vedere frida calo e anche diego rivera cuernavaca è detta anche la città dell'eterna primavera perché ci sono sempre 27 gradi di media quindi una temperatura meravigliosa e di quel posto io ricordo tre cose in particolar modo le bougainville sono dei fiori meravigliosi dei cespugli che escono da tutti i giardini un'esplosione di colore e sono veramente meravigliose il clima aiuta e fa sì che siano nel loro habitat naturali ricordo anche una certa pericolosità di cuernavaca perché proprio gli amici che vivevano lì mi raccontavano che in effetti c'era anche questo aspetto di questa città dell'eterna primavera in realtà e poi la cosa la vera rivelazione di cuernavaca per me sono stati i murales di palacio de cortese i murales di diego rivera che era il marito di frida calo io non lo conoscevo quando si parla di serendipity si può intendere proprio questa cosa perché io conoscevo lei sono andata in messico per cercare lei ma in realtà ho trovato anche lui e ho iniziato veramente ad apprezzarlo perché diego rivera è considerato il più grande pittore muralista del messico ha creato un'opera gigantesca meravigliosa dei murales che non solo sono arte ma sono anche storia la vera storia del messico perché lui in realtà all'interno dei suoi murales che dovevano essere dei veri e propri manifesti anche politici ha veramente disegnato tutto tutta la storia del messico ha messo le facce delle persone a lui care le persone che lui ad esempio anche ha odiato politicamente parlando quindi i suoi murales veramente sono un patrimonio dovete sapere che dopo cuernavaca ho trascinato tutti i compagni di viaggio a città del messico perché quella era la mia destinazione del cuore io volevo proprio andare a ritrovare i due pittori e vederli in tutti i luoghi dove si potessero trovare quindi io mi sento di consigliare a tutti quelli che decino di andare a città del messico magari perché sono appassionati di arte magari vogliono ripercorrere anche loro le ombre le orme di questi due grandi pittori oppure semplicemente vogliono vedere la città io consiglio in particolar modo due quartieri che sono Coyoacán che è al quartiere dove si trova la casa natale di Frida Kahlo che si chiama proprio la casa azulla e al momento è diventata la casa museo di Frida Kahlo per volontà del marito quindi di Diego Rivera la casa è rimasta esattamente come Frida l'ha lasciata quindi all'interno della casa ci sono tutti i suoi effetti personali desidero anche dirvi che all'interno di questa casa potete trovare il letto baldacchino con lo specchio sopra che è quello che Frida utilizzava quando passava le lunghe giornate distese nel letto perché molti magari sapranno conosceranno la storia di Frida voglio essere più precisa magari per chi non la conosce Frida Kahlo aveva sofferto di poliomelite quando era piccola e poi a 18 anni ha avuto un gravissimo incidente mentre si trovava su un autobus che l'ha costretta purtroppo semi paralizzata per gran parte della sua vita perché poi in effetti aveva subito diversi interventi chirurgici però non è mai riuscita a guarire veramente per cui questo trauma se l'hai portato dietro per tutta la vita e si ritrova moltissimo anche nella sua arte nei suoi quadri e nelle sue opere all'interno della casa sul c'è proprio questo letto che vi dicevo potete trovare i pennelli di zibellino con la quale Frida Kahlo colorava pitturava ci sono i suoi colori ci sono tutti i suoi effetti personali ci sono i busti la sua sedia a rotele davanti al cavalletto ci sono i colori meravigliosi del Messico questa esplosione nel giardino ci sono tutte le sue collezioni le statue precolombiane gli oggetti di arte popolare messicana che lei amava collezionare ci sono le sue letture i suoi scritti i suoi diari Frida Kahlo non era soltanto una pittrice ma era anche una raffinatissima poetessa e ha scritto delle lettere meravigliose d'amore a suo marito Diego Rivera con la quale ha avuto una storia tormentata però con la quale alla fine è rimasta per tutti i giorni della sua vita un altro quartiere che mi sento di consigliarvi di visitare a città del Messico è il quartiere di San Angel è a 12 chilometri dal centro per raggiungere tutti questi posti detti così sembrerebbe facilissimo bisogna tener conto del traffico infernale di città del Messico fare un viaggio in taxi di anche solo 12 chilometri diventa un'impresa pazzesca infatti Veronica e tutti gli altri amici credo che in realtà mi abbiano un po' odiata dovete anche sapere che in realtà infatti in viaggio con me non vuole più venire nessuno perché quando vado in un posto io devo vedere tutto quello che è possibile e quindi le persone si stufano e poi mi dicono tu non vuoi mangiare non vuoi riposare non vuoi fare io con te non vengo più in viaggio e quindi credo che anche questi amici si ricordino molto bene di città del Messico perché li ho trascinati fino al quartiere di San Angel dove trovate il museo casa studio di Diego e Frida Galo queste sono due case gemelle di colori differenti quella blu era di Frida Galo l'altra era destinata a Diego Rivera l'avevano proprio fatta costruire così con un ponte che li univa proprio perché loro due entrambi volevano condurre le loro esistenze indipendentemente con i loro interessi però questo ponte era simbolico doveva unire le loro case e le loro vite come poi in realtà è stato da vero per tutta la vita all'interno della casa museo si trovano le opere di Diego Rivera su cavalletto perché ha anche stato pittore di tele più piccole oltre che dei murales e ci sono anche gli effetti personali quindi i suoi cappelli le tute che indossava per dipingere e tutti anche gli effetti personali nell'altra casa di Frida Galo vi racconto una curiosità all'interno di questa casa non c'era nulla che proibisse di farlo all'interno del bagno c'era una boccetta di profumo per un amante di Frida Galo qual è la cosa più bella da fare sentire il profumo della pittrice entrare e avvicinarsi veramente a questa a questa donna quindi visto che non era proibito farlo io l'ho aperto l'hanno usato ed è stata una delle cose più emozionanti che mi sono capitate in viaggio vi segnalo altre due cose a città del messico se vi piace l'idea un giorno magari di andare a ripercorrere le orme di Frida Galo un altro posto interessantissimo è il museo Dolores Olmedo Dolores Olmedo è una donna d'affari messicana una grande collezionista d'arte all'interno ci sono 3000 pezzi circa di opere d'arte messicane e contiene in realtà la più grande collezione d'arte al mondo di Frida Galo e Diego Rivera all'interno potete vedere ovviamente quello che è l'opera miravigliosa di entrambi i pittori ma potete anche vedere in giardino sempre i cani che aztechi tanto amati da Frida Galo che erano una sua caratteristica perché lei amava gli animali amava le scimmie i cani insomma era a tutto tondo un amante della vita quindi ritorniamo a viva la vita l'ultima cosa che vi segnalo che è imperdibile è il palazzo nazionale il palazzo nazionale di città del messico dove all'interno ci sono i grandi murales di Diego Rivera sono sia sulle scale che portano al patio in alto al primo patio e il patio è tutto affrescato tutto quindi è meraviglioso è veramente un salto come vi dicevo prima non solo nell'arte ma anche nella storia del messico perché lì Diego Rivera era solito mettere al posto dei visi i volti delle persone che conosceva per cui è bellissimo stare a contemplare questi murales giganteschi e cercare di capire anche ogni singolo dettaglio quindi lì dentro si può veramente trascorrere almeno quattro giorni tranquillamente insieme ai miei amici che intanto mi hanno aiuta quindi se vi è piaciuta quest'idea se vi piace l'idea di conoscere di vedere veramente dove hanno vissuto due grandi artisti o di capire qualcosa di più dell'arte del messico di questa meravigliosa terra vi consiglio di programmare un bel viaggio in messico ma non dimenticatevi di segnarvi gli appunti per andare veramente a vedere i luoghi più importanti dove hanno vissuto Diego Rivera e Frida Kahlo ma siccome stasera io mi sento anche un po' Raffaella Carrà dovete sapere che vi ho preparato una sorpresa a tra poco quindi visto che stasera mi sento un po' come la Carrà ti dico caramba che sorpresa abbiamo con noi Veronica Perenzi Ciao Veronica come stai? Ciao bella Gloria benissimo tu come stai? Molto bene grazie noi lo dico per chi è a casa che ci sta seguendo sentiamo Veronica che in questo momento io ho parlato di te Veronica fino adesso ho parlato del nostro viaggio della nostra gita a Città del Messico e nonostante tutto siamo ancora amiche esattamente dopo 15 anni sì non è andata così male dai no per nulla anzi l'arte ci ha unite e ci riunisce anche stasera quindi direi che è una cosa meravigliosa l'arte e i viaggi perché Veronica in questo momento si trova in California però Veronica ha vissuto tantissimo in Messico per quanti anni sei stata 10 10 anni in Messico ho iniziato il mio viaggio in Mexico City sono stata lì per due anni e mezzo mi sono trasferita a Quernavaca che è una cittadina chiamata l'eterna primavera ed è a 80 chilometri sud da Mexico City e poi ho vissuto 7 anni in Los Cabos paradiso dei divers sono tornata anche lì sono anzi sono venuta anche a trovarti lì adesso devo andare in California cioè Veronica io adesso dovevo venire a trovarti in California ti sto aspettando ti sto aspettando senti Veronica ci dici una cosa bella e una cosa brutta del Messico secondo te allora la verità è che il Messico per me è stato un viaggio stupendo introspettivo incredibilmente produttivo è difficile trovare qualcosa di negativo quello che posso dire che è un posto un po' pericoloso e dipendendo da dove vieni da dove hai vissuto per per tutta la tua vita è diverso una cultura diversa quindi bisogna adattarsi bisogna stare attenti e però è la cosa credo che è l'università che mi ha insegnato di più nella vita ah non ho dubbi non ho dubbi se ti hai un luogo del cuore messicano che secondo te è imperdibile allora diciamo che il Messico come l'Italia ha regioni e stati e ogni regione ogni stato ha la sua cultura la sua cultura culinaria e le sue bellezze è difficile dire il mio posto preferito però se devo dire il Chabas perché è un posto ancora molto wild molto selvaggio ed è stupendo la gente è proprio si vive la vera cultura messicana lo Schabas è un posto meraviglioso è un paradiso però non senti quella cultura quell'arte che si trova come in città del Messico o San Miguel de Allende o altri posti no? però Chabas tra cultura messicana e la natura selvaggia è meraviglioso e consiglio assolutamente di fare un viaggio culturale in Messico City e un viaggio più avventuroso in Chabas da non perdere direi anche in un solo viaggio sì è vero confermo anche io ho trovato questa cosa in Chabas e tra l'altro vogliamo dire che il Messico ha tantissimo da offrire perché in realtà in Messico puoi trovare le belle spiagge come dicevo in apertura puoi trovare la natura io mi ricordo con te di aver fatto il bagno in uno dei posti più belli dove mi sia mai capitato che era un fiume che ci trasportava in Quernavaga in Quernavaga e siamo arrivati in una piscina naturale quindi veramente una natura meravigliosa però si può spaziare veramente perché c'è poi anche tanta arte, tanta cultura diventa anche un meraviglioso viaggio culturale e non è così in tutti i posti quindi veramente c'è questo plus che diciamo che è veramente bello questo è proprio quello che io sempre affermo che Messico e Italia hanno tantissimo in comune quello che non hanno in comune è che noi italiani ci lamentiamo tantissimo e i messicani invece trovano sempre un sorriso per ogni cosa e una morale ad ogni disavventura che per loro non è una disavventura è semplicemente parte della vita, è un viaggio e si apprende bello, 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 tu sei diventata anche tu così un po' messicana, un po' filosofa un po' messicana, un po' filosofa con radici ancora italiane difficile da sradicare accidenti brava, quelle non perderle mai che è il fascino, il fascino italiano senti Veronica ma se ti dico Frida Kahlo tu cosa mi rispondi? possibilmente non parolacce, grazie no è bellissimo perché innanzitutto mi fa piacere che parliamo di Frida Kahlo soprattutto in questa settimana che è la settimana della donna e per me rappresenta tantissimo come forza interiore e come forza artistica perché è una delle mie ispiratrici posso dire ho visitato tutto ciò che riguarda Frida Kahlo da città del Messico a everywhere ed è bellissimo è affascinante senza paure senza limiti, ha assolutamente descritto e vissuto tutto quello che aveva dentro e riportato in arte è meraviglioso, mi piace tantissimo e so che condividiamo tantissimo questa passione ti ricordi abbiamo visto anche il film a casa mia prima di andare? sì, ne ho anche parlato, esatto, di Frida che poi è stato l'inizio un po' di tutto, di questa inseguita esattamente del Messico, sui taxi, insomma tutta questa avventura meravigliosa che abbiamo condiviso ma senti Veronica invece ci vuoi dire se ti viene in mente il tasto mexicano che secondo te è imperdibile visto che abbiamo parlato di vita, di colori, di arte, di Frida parliamo anche di qualcosa di buono allora, personalmente non mangio carne, quindi quello che posso dire è che amo tantissimo tutto ciò che riguarda la cucina pescataria, quindi devo dire che i tacos della Baja California sono meravigliosi, tutto il pesce che offre quel bellissimo mare di Fioc Cortez e quindi quello che posso dire è assaggiare un po' di tutto in ogni regione perché è meraviglioso, è come in Italia ogni posto ha il suo perché e la sua cucina tipica è vero, è vario, è vario, cambia tantissimo, quindi si può veramente assaggiare di tutto poi generalmente associamo il Messico alla cucina di Faiutas, ma quelle cose diciamo Tacos Tacos esatto, però i tacos è veramente la cucina messicana io sono super italiana, cucino tutti i giorni ma non mi faccio mancare almeno una volta settimana, un taco bello, brava, i tacos rendono belle, tra l'altro, guardali come sei bella tra l'altro sei un po' artista anche tu, perché anche tu sei nel mondo del design sei nel mondo dell'arretamento, dei fiori, quindi anche tu hai un aspetto artistico veramente molto sviluppato soprattutto quando lavoro con i fiori penso tantissimo a Frida Kahlo e peccato mi sono dimenticata di mandarti una foto molto carina ho preparato una volta una coroncina fatta di fiori e l'ho messa al mio cagnolino che è una cagnolina che ho trovato, anzi lei mi ha trovato in Messico in una spiaggia ed è la mia Fridita Vieni Frida, vieni Here we go Ecco lei qua, ciao Frida Meravigliosa, grazie Veronica Senti, siccome hai parlato di Messico, hai parlato ancora che un po' d'Italia ce l'hai ancora nel cuore e io chiedo una cosa perché ho un ricordo di te cioè ma tu canti ancora a squarciagola le canzoni il microfono finto ce l'hai ancora? No, non ho il microfono finto ma canto a squarciagola sempre soprattutto sotto la doccia perché realmente non è uno dei miei migliori schio e quindi mi rinchiudo nella doccia e canto a squarciagola ma non Gigi D'Alessio Non più Gigi D'Alessio Adesso mi sono evoluta e adesso canto Bocelli Ah, direi che hai fatto un salto insomma e anche non mi ha fatto bene la voce perché Certo, un gigantesco salto di qualità ho migliorato e ho fatto molti esercizi e quindi dovresti tornare per ascoltarmi Vabbè, i miei microfoni li porto io che facciamo così Senti Veronica, io ti ringrazio tantissimo per questa chiacchierata Poi, allora, prima di lasciarti andare io vorrei dare dei consigli che lo faccio sempre, in tutte le unità quindi vediamo se sei d'accordo con me Voglio dare un consiglio di un film e in questo caso è facile consigliamo il film di Frida Frida Kahlo Dicevo, con una salmaia che peraltro lei è messicana quindi è riuscita a portare alla perfezione sono anche quasi che si assomigliano sono quasi, sono perfette, ma bellissime poi si passano tutte le tappe della vita di Frida, sull'amore di Diego Rivera quindi anche chi non la conosce in quel film ha proprio modo di rivivere un po' di messi che mi spazio anche è stata molto, molto interessante Poi desidero anche, invece, dare un consiglio di lettura siccome a noi ci piace cambiare però questo consiglio di lettura spero si veda che è il libro dal titolo Diego e Frida è di Jean-Marie Leclezio che tra l'altro è stato premio Nobel per la letteratura nel 2008 e qua veramente in realtà è un saggio quindi vengono ripercorse anche qui le tappe della vita e di questo amore meraviglioso in maniera veramente speciale tra l'altro ci sono delle fotografie ci sono le descrizioni delle case dei luoghi che vi ho raccontato prima dei murales di Diego Rivera e quindi se avete voglia di approfondire perché no? questo potrebbe essere veramente il libro giusto e infine vi lasciamo con una canzone invece sempre sul tema perché ovviamente ormai siamo dentro fino al collo e vi consigliamo la canzone Paloma Negra di Ciavela Vargas Ciavela Vargas è la più grande cantante messicana Salma Hayek che l'ha fortemente voluta nel film Prima e quindi infatti ha fatto la colonna sonora di questo film meraviglioso e ha detto di Ciavela Vargas Ciavela non è una cantante messicana Ciavela è il Messico quindi direi che chiudiamo veramente questo meraviglioso viaggio che abbiamo fatto questa sera desidero ricordare a tutti quelli che ci seguono che all'indirizzo info chiocciolapavia1tv.it potete mandarci le vostre segnalazioni e i suggerimenti ovviamente restiamo a disposizione desidero salutarvi salutare Veronica con un fortissimo abbraccio viva la vita viva la vita Viva la vita Viva la vita la parranda la parranda Palomba negra Palomba negra palomba negra dónde dónde andará Ya no juegues con mi honra barandera Si tus caricias han de ser mías de nadie más Y aunque te amo con locura ¡Dia! ¡Dia! ¡Fuare! Paloma negra, eres la reja de un penar Quiero ser libre, vivir mi vida con quien yo quiera Dios, dame fuerza, que me estoy muriendo por irla a buscar ¡Fuare! ¡Fuare! Grazie per la visione!